lo zoo di 105 presenta le poldinate e oggi abbiamo usato la voce di buonasera pronto? pronto? si mi sente? si sono roberto mappo sveglia cogliona chi è? mi sente? si ma chi sei? sono roberto mappo sveglia cogliona perché? vabbè pronto? si pronto ma c'hai il sughero nelle orecchie che stronzona rispondi è chiaro ma che modo? ma che cacchio por pronto? mi chiede? por ma chi è lei? sono roberto mappo ma chi è? ma che c'è? dove è? sono roberto mappo io non ti capisco ma stiamo lei è pregato di non chiamarmi più ma c'è? ma c'è? pronto? po no eh sono roberto mappo che cazzo sei? sono roberto mappo oh e che cazzo vuoi? sveglia cogliona ciao non ho tempo po sì che cazzo vuoi? che cazzo ne so no buonasera vai vai pronto? pronto? sì? mi sente? dica sono roberto mappo sveglia cogliona sento un cazzo parla più forte che non sento coglione no no voglio cagare va pronto? buonasera vai 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 pronto? sono roberto mappo sveglia cogliona che cazzo stai dicendo? come? ma chi sei strunzo? sono roberto mappo oi strunzo? ma c'hai il sucro nelle orecchie? fammi sapere fammi sapere chi sei che strunzo? parla con un culo guadrato che strunzona? è venito? strunzo? che strunzona? rispondi strunzo? animale strunzo il bel con il doces ci colleghiamo con il libero sfogo degli ascoltatori adesso potete farlo anche attraverso l'app dello zoco la Bastard Inside Up realizzata dal bambino bellino piccolino 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 orsacchiottino va bene va bene dai adesso faccio due flessioni mentre va alla pasta va bene va bene vediamo Bastard Inside Light sfogati incazza insulta chi vuoi scarica la tua rampa Bastard Inside Light 02627 105 anche dalla tua app dello zoo e anche tu accendendoti una sigaretta ti dai fuoco al pizzetto benvenuto è il momento di tagliarlo a smettere ehi ragazzi mi chiamo Lorenzo oggi è il mio compleanno a noi fado gli auguri in diretta e magari potreste anche farmi una torta mi piacerebbe un bel cazzamissù a latte di muco riproduzione casuale delle canzoni sul computer cosa salta fuori Wake Me Up del grande DJ Pippo Palmieri e DJ Spy che figata la nazione che merda ho capito tutto ho capito tutto sentiamo la moglie di Paolo è Ned Flander salve salvino Paolino cicciottino piccino ciccino pipirino 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 certo certo vino oh come esce di merda sono Massimino di quartino oh no sono Massimino di quartino oh scusate scusate se vi disturbino cretinenti della pupu volevo sapere che potevo venire nel tuo negozio a comprare un pacchetto di patatine pagandolo col gas perché non c'ho i soldini ma non posso va bene scusa allora me ne vado c'ho un sciocchino della pupu basta l'insideline 02627 105 anche dalla tua app dello zoo ma non vogliamo chiamarla un po' in onda no e basta dai bimbino vieni qua vicino comincia a farglielo anche il direttore di banca è un casino Marco vieni qua glielo fa già gli dice Paolino figlio di puttanino quando è che rientri del debittino vabbè dai allora cosa facciamo dai mandiamo il coso no dai affrontiamo questa cosa del bambino piccolino dolcino bellino dai vai Spain con la sigla dai aspetta aspetta che sta suonando cosa ha buttato giù no 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 attrapando la chiamo io la chiamo io la chiamo io la chiamo io aspetta perché si vergognina un po' stai spendendo 30 euro al giorno sto bastardo ma non me ne frega un cazzo io guarda ne vale tutta la pena allora aspetta ma solo a me mia moglie mi chiama OU Stefina Noisina aspetta aspetta eh Stefina Noisina e via che sto sprofondando nel bar sei nella fossa delle Marianne non finirà mai questa cosa sono finito si 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 carne morta basta adesso sei pronto ciao Stefina è lo zoino pronto sono Stefania la moglie di Paolo Noi sei l'uomo nero grande steve quello che quando arrivo a casa la sera mi dà una testata per salutare sei sicurina Ina Ina non capisco di cosa state parlando il marito è forte il marito è duro si sforza sarходino elchino ti avete qualcuno nooo nooo ah ballotino ti volevo dire che ho preparato una tortina di mellini a forma di cuolino per il tuo morino noaaa ciao maaa è così tutta la mattina ragazzi me lo giuro se vio ti amo sei la numero uno ciao a morino Adopino No 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 Sono finito Già Sono finito Sono finito Si ferma per qualche minuto di pubblicità Vi consigliamo di andare su il sito dello zoo.com Ed entrare nella sezione Zoo Life Dove potrete scoprire tutti i nostri eventi in programma Il sito dello zoo.com No 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 No